Antonio Viscardi, una bella vittoria di questa intella giovane, la possibilità anche per voi più giovani di fare vetrina. Oggi siete stati chiamati in diversi e credo che per quello che ha detto il campo avete risposto ottimamente a queste chiamate. Sì, abbiamo fatto una bella partita. Noi giovani abbiamo giocato bene grazie agli altri ragazzi che avevano più esperienza. Anche grazie a loro, soprattutto grazie a loro, abbiamo fatto una buona partita e ci siamo portati questi tre punti a casa. Una partita che in un certo momento si è messa anche in difficoltà per l'espulsione di Silvano Raggi Garibaldi, però anche in quel momento mi pare vi siete compattati bene e avete sofferto poco, considerato che di fronte c'erano anche i signori giocatori. Sì, è vero, abbiamo un po' subito dall'espulsione di Raggi, però ancora una volta i ragazzi più grandi che hanno più esperienza sono riusciti a compattarci e lottare fino alla fine per vincere la partita. Naturalmente ora ricomincia il tuo campionato, un campionato che però vi vedo anche in questo caso protagonisti, avete fatto una buona crescita e delle buone prestazioni. Sì, abbiamo fatto bene, bisogna andare avanti, domani noi giovani sicuramente di nuovo a testa bassa e lavorare per guardare i nostri obiettivi e il nostro campionato di sperare di andare il più avanti possibile. Benissimo, grazie a te.